ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul nostro canale non ci vediamo da qualche giorno non sono stato benissimo quindi eh ma sono vivo a vegeto quindi è un piacere ricondividere delle idee con voi dei pensieri con voi dopo un po' di giorni eh prima di iniziare like al video come sempre iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto vi ricordiamo che c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale costa meno di un caffè noi ve lo diciamo sempre vedete voi due giorni a Juve Napoli domani parlerà Max Allegri alle due in conferenza stampa match importante che sicuramente si porterà dietro gli strascichi di di Napoli Inter per forza di cose una cosa che un po' in realtà mi preoccupa perché di solito eh quando ci sono due big match di fila se una squadra viene penalizzata la partita dopo c'è qualche attenzione in più visto che finora non ci sta andando benissimo diciamo che non non sono sereno però non cerchiamo alibi scherzi a parte non troppo non troppo scherzi ma un po' ci credo però pensiamo al campo eh campo che metterà alla prova la Juventus sarà una partita secondo me durissima e molto accesa mi aspetto una partita accesa perché comunque il Napoli vuole riscattare questo tonfo interno con l'Inter il Napoli ha bisogno di punti e e quindi sarà difficile continuare diciamo questo percorso netto che dura da un bel po' in casa Juve no? Eh striscia più lunga di risultati utili in serie A eh non perdiamo appunto da quella trasferta di Sassuolo però speriamo di 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 prolungare questa serie ehm oggi io ragionavo prima di fare il video cioè ragionando sul video su questo rush finale verso la fine dell'anno come se dovessimo mettere ogni tanto dei paletti eh come se dovessimo perché è giusto magari ogni tanto ragionare per non noi tifosi quantomeno non partita come partita ma come gruppo di partite ehm e alla fine è un calendario che vediamo non sarà facilissimo da qui a fine anno perché abbiamo i scontri diretti con Napoli e Roma in casa in mezzo le due trasferte con Genoa e Frosinone che comunque sono trasferte molto scomode eh io ragionavo poi ditemi anche la vostra nei commenti sul fatto che otto nove punti già sarebbero tanta roba eh meno di sette direi diciamo che meno di sette non sarei troppo contento ecco però saranno delle partite difficili io mi aspetto una squadra un po' stanca e mi aspetto non so perché ma non ho ottime impressioni ehm su su queste partite perché secondo me eh bisogna essere bravi a livello mentale e non so quanto la squadra ancora sia pronta eh mi spiego meglio il discorso ecco perché poi nel titolo ho scritto tre obiettivi chiari uno deve essere questo io vorrei che questo messaggio passasse alla squadra eh non bisogna mollare mai non bisogna pensare di eh non bisogna disunirsi come dire eh perché vedere quest'Inter è chiaro che un po' ti demoralizza allo stesso modo magari guadagni punti su sulla zona Champions ne abbiamo già tanti e questo ti può rasserenare poi a un certo punto quindi deve essere una squadra che non deve guardare l'Inter io non credo che abbia senso guardare l'Inter in questo momento perché altrimenti per di fiducia per di fiducia sia per le prestazioni che l'Inter sta mettendo in campo sia perché poi quando vedi la partita con Napoli diciamo con qualche episodio dubbio chiamiamoli dubbi ti ti cala un po' quella quella speranza perché poi è chiaro eh io su questo non lo dico per scaramanzia non lo dico per mettere le mani avanti ma l'Inter è la strafavorita lo abbiamo detto sempre solo lei può perdere il campionato quindi io voglio una squadra davvero che ragioni partita dopo partita è chiaro io magari anche qui per chiacchierare con voi faccio dei conti sulle prossime quattro quanti punti invece noi dobbiamo pensare partita dopo partita senza guardare all'Inter eh perché alla fine c'è sempre un po' quella speranza che loro cadono che possano cadere ma in realtà vediamo che non succede e questo rischia di demoralizzarci dopo la vittoria che hanno fatto a Napoli questo è uno degli aspetti da tenere sotto occhio perché abbiamo sperato che l'Inter incappasse con la Roma e niente con Napoli e niente con l'Atalanta e niente nel derby e niente e quindi un po' poi perdi le speranze non deve essere così noi dobbiamo ragionare su di noi e vedere il nostro percorso che deve essere comunque a prescindere un percorso di crescita poi vedremo a cosa porterà però ehm questo obiettivo eh questo è un obiettivo che io fossi nella squadra mi darei da qui a fine anno vivere queste quattro partite che sono fondamentali io credo che siamo pesantissime con eh quella mentalità del guardiamo solo a noi stessi e continuiamo a fare quello che stiamo facendo ehm secondo aspetto perché senza neanche stare a spulciare troppi dati è un dato evidente eh se vi ricordate un po' di tempo fa eh lo ricordo anche spesso eh dopo un avvio buono di Vlaovic e Chiesa in un video in una diretta ora non ricordo ma l'ho ripetuto spesso dicevo ora servono anche i gol dei difensori servono anche i gol dei centrocampisti servono i gol di chi segna meno ora torna un po' il discorso al contrario nel senso che è vero che Vlaovic ha segnato con l'Inter ma ora servono i gol degli attaccanti perché poi alla fine Vlaovic ne ha fatti cinque ma è sotto media per quelli che dovrebbe fare secondo me ma penso secondo tutti è vero l'infortunio è vero anche Chiesa quattro gol ma si era fermato eh poi ci sono i due gol di Milic e zero di Ken sommati fanno undici sono pochi per una squadra che vuole sperare di vincere lo scudetto e sono pochi anche se paragonati poi a quelli che sono ad oggi a oggi i nostri avversari principali cioè eh l'Inter Lautaro ne ha fatti di più di tutto il nostro attacco da solo se poi sommiamo anche i cinque di Turam loro ne hanno fatti diciotto in due noi ne abbiamo fatti undici in quattro no? Quindi eh e noi dividiamo di più i minuti degli attaccanti rispetto ai loro che cioè la fine Sanchez gioca poco Arnautovic spesso non c'è stato quindi è un dato eloquente ehm serve ritrovare il loro gol serve che si sblocchi Ken non voglio tirare la croce addosso a Dusan non voglio tirare la croce addosso a Chiesa eh tutti devono segnare il più poi chi si appella al gioco non gioco eccetera eccetera io comunque ricordo sempre che la Juve tra le prime tre squadre di Serie A per occasioni create per expected goals quindi qualche gol in più ce lo aspettiamo ce lo aspettiamo diciamo così ehm e terzo eh terzo obiettivo che bisogna secondo me avere è quello di riguardano i tifosi eh ed è quello di remare con la squadra come stiamo facendo ora in molti perché a loro il nostro supporto arriva e si vede eh se riusciamo per quanto possibile eh evitiamo discorsi inutili evitiamo critiche supportiamo questa squadra che sta facendo eh tantissimo ehm e questo non è proprio un obiettivo della Juve ma anche noi siamo la Juve quindi è una cosa a cui ci tengo e ogni tanto è giusto ribadirla questa roba qua perché poi cioè sentire critica d'allenatore eh eccetera eccetera quando stai facendo un percorso del genere oggettivamente mi fa girare un po' i coglioni punto di vista sicuramente però eh secondo me fa veramente bene alla squadra questa roba qua ehm poi per carità ci pensano spesso anche i giornali mettere in giro voci sull'allenatore mettere in giro voci su Conte mettere in giro voci o disaccordo tra giocatori e allenatore noi proviamo a fare il nostro e semplicemente supportiamo dei ragazzi che stanno andando oltre ogni aspettativa perché poi molti fanno il paragone tra la rosa della Juve e la rosa dell'Inter come se giocassimo a FIFA ma la cosa che spesso sfugge ai più è la differenza anche a livello di caratura di a livello internazionale a livello di esperienza abbiamo sicuramente giocatori che possono essere forti nei propri limiti come dice anche Allegri ma che ovviamente a livello di esperienza sono inferiori all'Inter e questa è una cosa che poi molti sottopautano ma nel calcio è importante nello sport in generale quindi proprio perché molti soffrono anche un po' questa cosa di inesperienza e siccome arriveranno dei momenti due partite di fila in cui non arriveranno le vittorie e quando un giochi in Europa le settimane passano più lentamente e c'è la possibilità che si rompa di più le palle alla squadra diciamole queste cose quando le cose vanno bene così ce le ritroviamo davanti e quindi supportiamo e sono sicuro che serve questo anche per stimolare i ragazzi anche noi che parliamo qui sui social anche noi che parliamo su piattaforme varie possiamo fare il nostro o quantomeno sperare di poterlo fare ci vediamo per Juventus Napoli non ci vedremo per la conferenza stampa perché sia io che Antonio siamo impegnati ma sicuramente ci vedremo per la partita vedremo un po' le formazioni probabili stero per qua ci rivedremo sicuramente vi invito ancora una volta a lasciare un like iscrivetevi al canale se non l'avete fatto fino alla fine forza Juve meno due a Juve Napoli dai cazzo ciao ragazzi